... Cos'è, aggiornamenti da Nikita? Il localizzatore sull'auto di Tasarov funziona, ha trovato la scatola nerata. So che volete rimpiazzare quella che avete perso, ma forse sarebbe meglio se Nikita rinunciasse. Non possiamo lasciare che Tasarov abbia una scatola nerata, non ho neanche pensare in questo tempo. Saresti dovuto andare con lei. Potevo ritracciare il custode da solo, salve e riunirsi con gli altri custodi. Volevi vedertela da solo con un treno?